In questo momento particolare del nostro paese, io credo che la festa della donna serva soprattutto per fare una riflessione su quello che è l'occupazione femminile. In questo momento in cui c'è una grande disoccupazione, una grande preoccupazione per il lavoro generale, sicuramente chi ne soffre di più è il genere femminile. E naturalmente per poter dare rilievo anche all'occupazione del mondo della donna c'è la necessità di una rete di servizi che deve essere messa a disposizione della famiglia. E mi fa molto piacere che la collega dell'assessorato ai servizi sociali in questo momento si stia occupando in modo particolare di un comitato, di una commissione per la famiglia che si dedica proprio a queste problematiche e che cerca di creare una cultura diversa.